Il paziente con danno epatico, quindi le transaminase alle stelle, per tanti motivi, ha preso gli antibiotici, ha fatto la cura della leismana, si sono alterati i valori epatici, qualunque sia la causa. Quali farmaci può prendere, quali farmaci non può prendere, nello specifico può utilizzare la ranitidina o meno? E mi ricollego al post di Davide Anna, che ci fa la domanda sul gruppo, ci chiede, ho il cane con le transaminase alterate, cosa posso fare? Posso dare la ranitidina. Cane con epatossicità, cosa fare? Allora, Davide Anna ci dici che ha questo chuvavino con le transaminase alle stelle e anche la gastrite, come deve comportarsi? Ti dico quello che facciamo, ti dico anche una pillola importantissima, perché abbiamo tutto un protocollo terapeutico per i danni epatici. Allora, quando il paziente ha la gastrite, molto probabilmente ci sono stati alimenti o situazioni che hanno alterato la superficie dello stomaco, e questo poi cosa succede? Essendoci che c'è l'acido all'interno, se la superficie di protezione è alterata, l'acido corrode la parete e viene la gastrite. Ma, ricordate, glutine, farinacei, alimenti a cui il paziente è intollerante, bisognerà fare le prove, inducono la gastrite nel paziente. Alcuni farmaci, per esempio mi riferisco alla miltefosina, lasciano per parecchio tempo una permeabilità intestinale, una sensibilità intestinale prolungata. Questi animali soffrono per lunghi periodi di problemi all'intestino. Quindi la gastrite non va affrontata solo e esclusivamente col farmaco, l'omeprazolo, l'arenitidina, ma va affrontata anche dal punto di vista alimentare. Tornare a quella che è un'alimentazione naturale più vicina all'alimentazione del cane, aiuta molto di più nel lungo periodo rispetto all'omeprazolo. Cos'è l'omeprazolo e l'arenitidina di cui lei parla? Sono inibitori di pompa protonica, cioè l'acido dello stomaco è prodotto attraverso una pompa che inietta protoni all'interno dello stomaco, il protone in effetti è il componente dell'acido, e l'inibitore della pompa blocca la produzione di questi protoni, quindi riduce la produzione di acido. Riducendo la produzione di acido, la parete è meno attaccata dall'acido e quindi tende a rigenerarsi. Ma nel breve periodo questo funziona, perché se tu hai una piccola feridina sullo stomaco e c'è l'acido, la feridina verrà bugata, ma nel lungo periodo no, perché l'acido ha una componente importante di stimolo per il funzionamento dello stomaco. Tanto è vero che se l'acidità è ridotta per lunghi periodi, la parete, la mucosa, si assottiglia. Ci sono delle situazioni in cui c'è proprio un'atrofia della mucosa dello stomaco per l'uso prolungato di inibitori della pompa protonica. Quindi, omefrazolo si, inibitori della pompa si nell'acuto, nel cronico vanno gestiti. Ora, condroitina, la condroitina che è contenuta nelle cartilagini e in tanti integratori, sembra avere, anzi ha, un effetto protettore dello stomaco perché migliora tutto il film che sta di protezione dello stomaco. Ci sono infatti integratori come il gastrobet che non sono farmaci, sono integratori che aiutano a ripristinare il film. Diete di privazione, cioè diete in cui si cerca di capire qual è l'alimento che stimola la gastrite. Ovviamente, tutti gli alimenti non idoni per il cane, quindi i farinacei, quindi gli alimenti ricchi di amido, ricchi di glutine, vengono tolti fin dall'inizio perché quelli stimolano la gastrite, perché hanno delle digestioni lunghe rispetto a quella a cui il cane si è evoluto per anni e in una situazione di gastrite la possono facilitare. Ovviamente i farmaci, se gli diamo l'ernofloxacina che è un antibiotico famoso per dare gastrite, lo cambieremo con uno che non ha questa particolarità. Lato epatico, epatotossicità. Noi al centro studi affrontiamo moltissimo le patologie del fegato perché quando ci si presenta il paziente che deve fare la terapia della leismania, molto spesso hanno le transaminasi alle stelle e quindi iniziare farmaci fastidiosi può complicare la situazione. Quindi negli anni abbiamo imparato a gestire queste situazioni, addirittura abbiamo una terapia per supportare il fegato che nella maggior parte dei casi porta alla normalità ai valori. Spero che qualcuno commenti che sta facendo la nostra terapia perché ormai negli ultimi anni ne avremo diverse centinaia di persone che hanno fatto questa terapia che hanno visto le transaminasi da 800, 1000, 1200 tornare alla normalità. Mi ricordo Isotta per esempio. Ma ce ne ho veramente tanti di pazienti che è fatta questa terapia. Noi la chiamiamo terapia FADDA perché mi ricordo che ci dovevamo confrontare, all'epoca noi gli avevamo dato un nome e quella è la terapia che fa FADDA. Ok, allora è rimasta tra di noi la terapia FADDA. Normalizza i valori. Quindi il consiglio che ti do David o chiunque altro si trovi in questa condizione, contattaci uno dei nostri consulenti e ti dirà come approcciarci e ti facciamo tornare alla normalità le transaminasi. Per quanto riguarda la domanda specifica di Anna, l'Aranetidina cosa fa? C'è uno studio abbastanza recente, il 2018, che dice, ce ne sono anche altri, anche contrastanti alle volte. Quello del 2018 dice che dall'1 al 4% di pazienti con funzione epatica normale, con l'assunzione dell'Aranetidina, hanno visto peggiorare le transaminasi. Da lì si dice non utilizzatelo in fase di epatopatia. Noi personalmente non la usiamo. L'Aranetidina era un farmaco molto usato in veterinaria, poi ci fu il blocco di commercializzazione per tutta una serie di inquinamenti dei silos, ognuno ha raccontato la sua, e fu anche bloccata la produzione umana. Lì noi ne abbiamo fatto a meno e sostituito con altri. L'Aranetidina, in altre patologie, per esempio nelle gastroenterite, nei ricoveri di lunga degenza, forse è migliore in acuto rispetto all'omeprazolo. Cioè, cosa vuol dire? Io ho il cagnolino con la gastroenterite, devo abbassargli l'acidità gastrica, fa più effetto all'Aranetidina perché ha un blando effetto antivomito, rispetto invece all'omeprazolo che non ce l'ha, quindi per una sintomatologia acuta l'avremmo preferita. Nelle patologie epatiche noi non lo preferiamo, non è un farmaco che usiamo. Logicamente fai mente locale di tutto quello che ti ho detto, quindi fai tutta quella parte di medicina, si dice olistica, per non sistemare il sintomo, ma per sistemare la causa di base. Spero di aver ti dato degli spunti, i nostri numeri ce li hai, chiamaci. Un bacio.